E' ufficiale e si vota domenica 26 maggio sia per le elezioni al Parlamento europeo sia per rinnovare sindaci e consigli comunali. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente Giuseppe Conte, unendo in un'unica data la scelta sia delle elezioni europee che quelle amministrative. In provincia di Salerno si rinnoverà il Consiglio Comunale in ben 49 comuni. I centri più grandi che andranno al voto saranno nell'Agronocerino Sarnese, Scafati, Pagani, Sarno, Nocera Superiore, nella Valle dell'Irno Baronissi, a sud Capaccio Pestum e Sala Considina. Per questi comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti potrebbe essere necessario un successivo eventuale turno di ballottaggio che avrà luogo il 9 giugno 2019. Da sottolineare il dato che riguarda Scafati, che torna alle urne dopo sei anni e la dura inchiesta che ha coinvolto l'ex sindaco Pasquale Aliberti è portato allo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni camorristiche. La stragrande maggioranza delle amministrazioni comunali che si rinnoveranno riguardano invece centri con meno di 10.000 abitanti. Nel Vallo di Diano abbiamo già detto di Sala Considina ma ci sono anche Casalbuono, San Rufo, Caggiano per la zona del Tanagro, San Pietro, Auletta. In Campania si voterà in totale in 177 comuni di cui 21 sono superiori ai 15.000 abitanti ma c'è un solo capologo di provincia in cui si sceglierà il nuovo primo cittadino Avellino. Grazie.